Il fatto di ieri è, ahimè, così tragicamente semplice, nel senso che un ragazzo di neanche 22 anni che aveva in qualche modo già annunciato con una scritta sul muro il giorno precedente che appunto aveva intenzione di farla finita o immaginava che la sua vita fosse al termine, poi effettivamente nel corso della notte si è impiccato alle sbarre della recensione del suo settore dove era trattenuto. Un ragazzo che era trattenuto in CPR dal 13 di ottobre, prima a Trapani e poi da Trapani è stato trasferito a Roma. È stato trasferito a Roma dopo incidenti che ci sono stati nel CPR di Trapani, per dire quanto le problematiche sono problematiche generali e nazionali, dopo che Trapani era stato giudicato in gran parte un centro inagibile, ma soprattutto dopo che a lui era stato rinnovato il provvedimento di trattenimento il 13 di gennaio, perché appunto con la nuova disciplina del cosiddetto decreto cutro il termine massimo che prima era di 90 giorni e che avrebbe consentito a questo ragazzo a gennaio di tornare libero invece è stato diciamo prorogato e quindi si può arrivare fino a 18 mesi di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio e dunque così è stato, questo ragazzo è stato prorogato il suo termine di trattenimento, è stato trasferito a Roma, vedeva come dire una impossibilità di prospettive nel suo trasferimento. A questa condizione di disperazione si aggiunge ovviamente le condizioni immateriali di detenzione in questi centri che sono strutture molto degradate in cui mancano gli elementi più basilari di igiene, le suppelletti, le attrezzature diciamo minime per una vita dignitosa, in cui non succede nulla, non si svolge alcuna attività, quindi si può star chiusi per 18 mesi senza fare assolutamente niente e quindi non è difficile da immaginare che l'unica prospettiva di coloro che non intendono appunto rassegnarsi fino agli esiti tragici estremi come quelli di ieri, l'unica prospettiva è quella di cercare di scapparne o addirittura, come poi ieri è successo, protestare anche violentemente, danneggiando la struttura, aggredendo il personale di polizia che ovviamente presiede queste strutture. Questa è la situazione dentro i CPR, peraltro le strutture non sono per nulla preparate, non esiste, al contrario che in carcere, poi veniamo al carcere, ma al contrario che in carcere non esiste alcun protocollo di prevenzione del rischio suicidario dentro queste strutture e quindi gli alert che possono in qualche modo da condizioni di disagio attivare degli interventi di carattere diverso. Poi sappiamo che questi interventi spesso non sono sufficienti e su questo ha in noi il carcere, testimonia esattamente di questo, che nonostante tutte le misure di prevenzione che è possibile prendere in carcere, quella condizione di chiusura e spesso di disperazione, perché abbiamo notizie di tra questi 15 morti, suicidi, di questo inizio d'anno ci sono persone che erano in prossimità della scarcerazione e che però non sanno quale sarà il loro futuro e la disperazione viene anche dall'idea di uscire fuori di là e non sapere andare incontro a che cosa. E allora bisognerebbe evidentemente su questo fare politiche di carattere diverso, intanto ridurre la privazione della libertà sia in carcere e nel CPR al minimo indispensabile e poi cercare di sostenere queste persone sia durante le esperienze di privazione della libertà sia nel reinserimento successivo esterno.